Anticipazioni Tempesta d'Amore. Puntate tedesche. Maya, e Florian, i nuovi protagonisti. La diciassettesima stagione di Tempesta d'Amore, come trapela dalle puntate tedesche, avrà due nuovi protagonisti. Maya, e Florian, due ragazzi sensibili, e genuini, amanti della natura, e degli animali. Dopo mille peripezie, i due riusciranno a baciarsi. Ma, un segreto inconfessabile, ed una persona malintenzionata, e cattiva, potrebbero, in un batter d'occhio, spezzare il loro bellissimo legame. Maya, e Florian, si innamorano. L'ex della ragazza, rischia però, di rovinare tutto. In Germania, è appena cominciata una nuova stagione di Tempesta d'Amore. La diciassettesima. E come da tradizione, anche essa, sarà caratterizzata da una coppia, pronta a spiccare il volo. I nuovi protagonisti, che ci faranno tanto emozionare su Rete 4, saranno, come si apprende da fonti tedesche, Maya Fontalheim, e Florian Vog. I due, approderanno a Bic Lime, poco prima delle nozze di Tim, e Franzi. Ebbene sì, proprio quando il giovane Dejen, e la sua amata, saranno in procinto di ultimare i preparativi del loro matrimonio, due nuovi volti, faranno la loro comparsa a Bic Lime, ed ovvero, i suddetti Maya, e Florian. Due personaggi tanto uguali, quanto diversi. Maya, dirà di essere la figlia adottiva di Selina, una affascinante e dolce nobildonna, amica di Ariane Kallenberg, che in breve tempo, riuscirà a conquistare il cuore di Christophe. Dopo aver ottenuto lavoro come cameriera, Maya, dimostrerà di essere, una grande appassionata di fotografia. E per questo motivo, la vedremo trascorrere intere giornate, a contatto con la natura, per realizzare scatti mozzafiato. Proprio questo suo hobby, la porterà a conoscere la sua anima gemella. Gli spoiler al riguardo, annunciano che, durante una sessione di fotografia nel bosco, la Fonta Lime, si imbatterà in Florian, assunto nel frattempo come guardia forestale, del prestigioso hotel. Dopo averlo inizialmente scambiato per un cacciatore, la giovane, si renderà conto che, altri non è, che un grande amante degli animali, e della natura in generale. Inoltre, la sua sensibilità d'animo, e la sua indiscussa bellezza, la faranno innamorare perdutamente. Ad accomunarli, dunque, saranno le stesse passioni. E sarà così, che cominceranno a passare molto tempo insieme, ed a diventare, piano piano, buoni amici. E tutto ciò, li farà avvicinare notevolmente. Un giorno, inoltre, avranno anche modo di vivere una esperienza molto singolare. Salveranno un piccolo coniglio in difficoltà, e il tenero cucciolo, denominato poi Napoleone, finirà per rafforzare il loro legame, ancora di più. Maya, immaginerà più volte di baciare Florian. E un pomeriggio, la figlia di Selina, incontrerà nei pressi di un albero magico, il suo amato. Esattamente come da lei sognato, qualche istante prima. Dopo qualche giorno, ecco il colpo di scena. Maya, riceverà una visita inaspettata. Quella del suo ex fidanzato, una persona molto cattiva. Costui, si presenterà alla sua porta, con tanto di anello, e con un bellissimo bouquet di fiori. E sarà così che, confusa, preferirà passare la serata con lui, anziché con il Vogue. Un segreto inconfessabile, ed un terzo incomodo, rischiano di far naufragare la love story, tra Maya, e Florian. E Florian? Come la prenderà? Il ragazzo, si recherà da Maya. E, quando apprenderà del ritorno della ex fiamma della giovane, si rattristerà molto. Quando inoltre, il rivale, telefonerà alla Fontalime, per convincerla a ritornare con lui, il Vogue si impossesserà del suo cellulare, e sconsiglierà al suo antagonista di farsi sentire. Maya, non prenderà affatto bene il suo gesto, e ne scaturirà una bruttissima discussione. Con il passare dei giorni, però, la nostra protagonista, finirà per capire, di dover essere invece grata a Florian, per averla salvata dal suo ex. Così, i due usciranno insieme. E nel mentre saranno tutti intenti a costruire un capanno nel bosco, Florian, lascerà involontariamente aperto, il recinto di Napoleone, che scapperà via subito. Inizialmente, il Vogue, negherà di essere responsabile, della scomparsa del coniglietto. Poi, però, sopraffatto dal dolore, sarà costretto ad ammettere tutto. E sarà così che i due, guardandosi negli occhi, si scambieranno un bacio, molto appassionato. Stravolta, Maya, farà un passo indietro. Salvo poi abbracciare Florian, e dichiararsi. Successivamente, Maya, dirà al ragazzo, di aver visto Napoleone fuggire nel bosco, verso una determinata direzione. E così i due, decideranno di raggiungere il suddetto posto, in tandem. Qualcosa, però, non andrà per il verso giusto. A causa di un errore della Fonta Lyme, i due, avranno un brutto un incidente. Ad avere la peggio, sarà Florian, che verrà portato prontamente in ospedale. Qui, giungerà Eric, il fratello maggiore del ragazzo, il quale, messo al corrente del tutto, accuserà Maya, di essere la responsabile dell'accaduto. E le intimerà, di stare alla larga dal consanguineo. La Fonta Lyme, raggiungerà casa, piangendo. Trascorrerà una intera nottata, in preda ai sensi di colpa. Florian, invece, farà un sogno bellissimo, che avrà come protagonista, proprio la sua amata. Ripresosi, deciderà quindi di raggiungerla. Che cosa accadrà poi? Maya, e Florian, si ritroveranno di fronte all'albero magico. E qui, si dichiareranno amore eterno. Ne seguirà un nuovo bacio, sentito, ed appassionato. I due, poi, travolti dalla passione, si ritroveranno a letto insieme. E non è finita qui. Perché alla loro porta, busserà anche il loro caro animaletto, Napoleone? Tutto sembrerà magico. Ma, attenzione! Presto, un segreto della ragazza, ed un terzo incomodo, rovineranno in un attimo tutti i progetti dei due innamorati. Gli spoiler, sono ancora molto scarni in merito. Ma indicano che una notte, grazie ad un incubo di Maya, scopriremo che il padre della ragazza, Cornelius, nonché marito di Selina, decise di piombare nel nulla, e di simulare la propria morte. L'uomo, però, confidò le proprie intenzioni solo alla figlia. Maya, sarebbe dunque l'unica, a conoscenza del fatto che il padre, sia ancora vivo. E dunque, quando apprenderà della love story tra la madre, e Christophe, avrà una durissima reazione. Purtroppo, però, il suo segreto verrà scoperto, da una persona molto crudele. E sarà così, che per la dolce protagonista della diciassettesima stagione, inizieranno i guai. Non resta che seguire le nostre news, per tutti gli aggiornamenti del caso. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Iscriviti al canale, e clicca la campanella, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.